Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo ancora in questa villa in cui regna il silenzio e la morte, spezzato solamente da streghe e macchinari creati da Jindosh. Dobbiamo trovare ancora Delilah e scoprire a cosa diavolo le serve quel quadro che sta cercando di dipingere. Sono curiosa. E niente, la secondaria è qua a fianco e la runa è a 54, io andrei là. Tanto che siamo qui. Devo stare attenta ai dannatissimi teschi di cane perché non li vedo. Se si attivano è la fine. Perché c'è un albero in mezzo alla cappella? Questa era l'ultima delle mie domande, visto con chi abbiamo a che fare, diciamo. Ora vorrei sapere come si produce il fluido di terrore e rimpianto. Questa è una cosa che mi interesserebbe molto sapere, così, a scopo di conoscenza, ecco. Delilah sta lavorando a qualcosa di terribile. Ma Delilah non ha capito un tubo nella vita. Cioè, già una volta l'abbiamo fregata perché lei lasciava in giro appunti che non doveva lasciare in giro. E ancora una volta lei mi scrive come fare per fregarla. Cioè... Le rune corrotte neutralizzerò il dipinto di Delilah. Appunto, mi ha spiegato come fare per fregarla. Ho sbagliato. No, volevo il fiore, mi serve un fiore. Non voglio le candele, voglio il fiore. Ah, l'osso, ok. Ma mi serve anche un fiore. È questo? No, mi hanno parlato anche di fiori. Alghe? Cose intrinse nella paura e nel terrore e i fiori, giusto? Aspettate, devo controllare a sto punto. C'è fatto? No, mi servono i pigmenti a osso umane, credo. Dove... Vabbè, vado a prendere un cadavere qua fuori, se mi serve, se questo è il problema. I pigmenti sono questi? Ok, vedi. Ecco. Posso? Ah, fa da solo, va bene. Delilah sta creando rune dalle ossa umane, però non dalle ossa di balena. Questo è strano, effettivamente. Cos'è quella roba lì? Nuovo oggetto per la missione. Ok, runa corrotta. Posso? Una runa potente e instabile. Creata per rune? Ok. Io questo anello con sigillo continuo a puzzarmi tantissimo di chiave segreta, ma non capisco dove posso usarla. Comunque, ora abbiamo di nuovo un modo per fregare di Laila, perché esattamente come con Daud, quest'imbecille si diverte a scrivere in giro gli appunti dei suoi piani di distruzione di massa, e quindi la gente li trova poi e glieli distrugge, giustamente. Imbecille sta qua. Imbecille. Ho sbagliato. E vedi? Questa è la mia servitù, porca miseria. Forse c'è qualcuno vivo? Prima però vorrei... E che cacchio, non lo vedo. C'è qualcuno lì? Tu non hai visto niente. Un po' tipo i pinguini di Madagascar. Che palle queste signorine però che appaiono così, come gli garba loro. Non va bene sta cosa, perché io non lo posso fare? Che che... È entrata in combattimento. La macchina ha perso il bersaglio. No, macchina. No, macchina, vieni qua. La macchina sta ancora cercando. Non fa rumore, questo coso è incorporeo. Non fa rumore assolutamente, guardate. Potrei continuare tutto il giorno che nessuno mi sentirebbe mai. Porca miseria, porca. Però almeno adesso l'ho messa in movimento. Dai, dovrei riuscire ad andarla a prendere da sopra di nuovo. Prima però devo liberare la mia via dalla signorina che è apparsa dal nulla. Brutalmente. E che non so più dov'è finita ora, però. E in realtà... Dove sono entrata? Ma quanti sono? Quante sono? Quante sono? Stanno arrivando però, sento i piedini. Manco questo, fa rumore. Dai, oh, ma io come dovrei fare qua? Salve, signor! Aia! Dai! E niente. E niente! E allora... Ho sbagliato. Mi è arrivato un altro. Se io faccio così? Mi hanno perso? No, no, ma tranquille. Va bene così. Brave, si sono già accatastate da sole. Ormai hanno capito che fine faranno e lo fanno da sole. Va che bello, porca paletta. B. E' sparita, a mezz'aria. Ma è un mago. Effettivamente è una strega, sì. No, non ha funzionato stavolta. Ce n'è una sola? Vai. Eh ma... Colpisci mi bene però. L'ho presa? No. E allora farò... Ecco, ora l'ho presa. Volevo attirarla a me, ma così va bene uguale. Come me la sto cavando male in questo punto? Ma il problema sono le... Bravo. Il problema sono le streghe, porca miseria. Io non riesco a gestire le streghe. Perché appaiono, scompaiono, sono a destra, a sinistra. Non ti attaccano in mischia. E' un casino gestire le streghe. Ora c'è pieno, vero? Oh, signore, mi scusi, non vuoi... Signora, quante mosche c'è intorno a quella? Posso? Ah, vedi? C'era la combo, non lo sapevo. Me ne accorgo adesso che ho finito il gioco. Mentre sono... Mentre ho levato la testa sono tipo stannate. Posso colpirle ancora. Ok, uno, due... E ce n'è una terza, ecco. La terza è sotto, però. Terza è sotto. Però qui c'è il mio obiettivo. Quindi no, vado prima sopra. Sono troppo sopra. No, qui è giusto. Ok, ha funzionato. Non ci speravo più di tanto, ma... Ha funzionato. Vabbè. Ci sto. Ho imparato adesso come cavolo funziona sto nanato potere. Adesso l'ho imparato. Però ce l'ho fatta, avete visto? Un po' di calma e... Non ci... Non ci... La signorina io la seccherei. Che ne dite? Eh? Così fuori uno. Se facesse... Niente. Che ne venga un colpo. Ma sto... Ma... Ma l'avevo ucciso. Ma... Ma... Trovato niente? Nessuna fortuna per ora. Ripeto, lo avevo ucciso quel coso lì. Era defunto. Ne sono... Ho rotto anche il te... Ne sono convinta. Cosa? Cosa? No, non qua sotto. Faccia un passo. Faccia un passo. Faccia un passo. Bravissima! Ce n'è un'altra che vuole venire a controllare, no? Perché... A me va bene. C'è solo il cane. Ci riprovo. Povero cane. Ok. Loro stanno bene, vero? Ok. Mi piace questo potere. È interessevole. Diario di Mary Kate. Emily la falsa! Ma per l'amor di Dio! Questo dipinto puzza! Tantissimo! Chissà che cavolo sta dipingendo sta pazzo. Questo che cacchio è? Cos'hanno creato, no? Un'arma di distruzione di massa con tutte le nostre lame? Cioè, con le lame che usiamo per combattere. Bella, però. Ma non hai mai niente da dirvi, tu? Sei peggio di tua sorella, porca miseria. Non hanno niente da dirmi di bello. Palle. Ce n'era un'altra. Vado. Forse non dovrei correre. A parte che io ho i piedi silenti, ora che ci penso. Ecco perché la gente mi perde. Perché io ho i piedi silenti. C'è qualcuno di vivo? Che non è una strega? Ma cosa sta succedendo qua? Va bene. A mezz'aria, Luci. Sono proprio brava, eh. Sono proprio brava. Cioè, devo ammettere che ho un'abilità innata nel fare queste cose. Creare bug dove non dovrebbero esserci. È un'arte proprio... Innata. Io lì non ci andrei. Dov'è il mio amuleto? Eccolo. C'era qualcuno che parlava, però l'ho sentito. Eccolo. Forse è lui. Dove si entra qua? Ok. Salve signore. Civile? Ma ti ho lasciato fuori, civile? Che ci fai qui? Civile. No, tranquillo, civile. Ho visto nascosto da quando è successo tutto. Il tuo segreto è al sicuro. Che cosa hai visto? Ho sentito. Dopo il colpo di stato, ci sono stati scontri tra i traditori del duca e i membri della milizia leali all'imperatrice. Poi c'è stata una festa per Dilaila, poco prima che il duca tornasse a Serkonos. A un certo punto i sacerdoti hanno organizzato un assalto, ma è finito male. Nient'altro. Dilaila sta lavorando nella cappella dell'abbazia. Prepara qualcosa. Se davvero la vuoi incontrare, cercala lì o nella sala del trono. Lei e il duca parlavano di un dipinto. Abbi cura di te. Spero non dovrai nasconderti ancora a lungo. Mi auguro tu abbia ragione. Qui eravamo in tre. Hanno preso Genevieve, poi Morgan. Resto solamente io. Ah, ma quindi non si sta nascondendo. Lo hanno rinchiuso, sto povero disgraziato. Eh sì, ragazzi, lo so che non è civile quello che era fuori, ma era una presa in giro. Cioè, voglio dire, è lo stesso identico modello. Con lo stesso identico nome. La fantasia, proprio. Era sarcasmo, però specifico, perché so già che c'era qualcuno che mi stava già scrivendo che non era lo stesso. Lo so, ti ho visto tu là in fondo che stai scrivendo. Ti ho visto molto bene. Comunque, se in un bagno non c'è manco un lavandino, sto coso funziona. Vai, bevo. Quindi ho fatto tutto, posso andare. C'è ancora quella lì, che però è dove è il mio obiettivo. Quindi io vado. Io toglierei il disturbo e me ne andrei. Un salto sgargiulo, va che bello. Posso sbirciare qua? Ok. Ah, e vedi, ho fatto bene a sbirciare. Eh? Che ho fatto bene? Mamma mia, ti picchio tutto, ti picchio. Ecco qua. Chiudi. Ah, qui è dove abbiamo sconfitto tipo il boia nel primo. C'era mica quel tizio che nonna Cencia ci ha mandato ad uccidere? Duchessa Lucille Clotilda. Clot- Bello Clotilda, mi piace come nome Clotilda. Va che bellino. La mia cucina preparerà ostriche farcite di cianuro. Venga a mangiare con noi. Venga, lo faccia signora. Tradisca la sua imperatrice. Lo faccia signora. Perché ha miseria a lei? Le sta bene, le sta. Le sta bene. Mamma mia, sta gente inutile che si fida di Delayla. Io non lo so, li impareranno mai. Devo scendere qua, però. Lo faccio? C'è una signorina là in fondo. La voglio eliminare. Poi rischio di trovarmi di tutto addosso mentre combatto Delayla. Questa la eliminiamo, aspettate, va. Tanto i piedi silenti. Sono due, vedi? Per caso sono tre? No. E allora, saluti. Fatto. Sì, qui è dove stava la missione di Nonna Cencia. Mi ricordo molto bene. C'era quel tizio con quella sciavola incredibile che scorticava la gente, tipo. Cosa sono quelli? Ah, sarà diventata una specie di... Stanza... Di sicurezza. No, pensavo che fosse per attivare la corrente, in realtà. Guarda dove mi hanno messo l'arone. Grazie. Posso avere qualche potenziamento? Quattro rune, tipo... Ma in realtà... No, vorrei potenziare questo, in realtà. Porca miseria, me ne servono. Ah, non l'ho sbloccato. Beh, facciamolo allora. Stavo pensando che... Stavo pensando che questa stanza me la ricordavo diversa. Forse non è dove... Però sì, era più esamica qua al tipo. Forse è stata modificata. Per diventare una sorta di... Stazione... Più che di sicurezza è una centrale... Cioè, è la centrale elettrica del castello, secondo me. Corrente attiva. Userò l'ascensore per la sala del trono. Ma devo tornare indietro, che palle. Porca miseria! Dovevo aspettarmelo, vero? Io scappo. Scappo, 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 scappo fortissimo. Scappo fortissimissimissimo. Vai che non mi vedono. È fatta. E vedi? È fatta. Deve essere vicina. È molto vicina. E niente, signora. Mi scusi, eh. Arrivederci. È stato un piacere. Ora però questo mi dovrebbe insegnare a non correre. Perché anche se ho eliminato tutto... Stai giù, Emily. Anche se ho eliminato tutto, a quanto pare non è vero. È apparsa altra gente. A meno che non fossero qui e sono venute a vedere perché diavolo di motivo si è attivata... Si è attivato l'ascensore, diciamo. Quella signorina lì è andata. Ma non c'è altro. Facciamo così. Non mi fido, non mangerò niente di queste cose. Perché la signorina nel bagno morta mi ha dato una brutta impressione sulla cucina... ...sulla qualità della cucina di sto posto. Povera signora. Oh, ti prego, quello no! Ha più di cento anni! No, no! Quello apparteneva l'imperatore Jorno, Jacob Colwyn! Era un dono di notte! Più sono vecchi, più è divertente romperli, dico io. Oh, ti rompo io. Mi hanno visto, vero? Sono stupide. Sono stupide! Se mi fanno di nuovo rinchiudere Delilah da qualche parte, io disinstallo il gioco e non ci gioco mai più. Al Dio, al DLC e tutto quanto, mai più ci gioco. Perché poi io lo so che in Dishonored 3 questa torna e ancora vuole il mio trono. Quindi no, deve morirci male per quello che ha fatto ad Emili, al padre e alla madre. Quindi dobbiamo porre fine a questa cosa. Spero che questa runa che abbiamo creato serva per porre fine all'era di Delilah, tra virgolette. Io come sempre vi ricordo di lasciarmi sotto un commento, un like e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.